Andrea Mantella si è pentito. Il boss emergente di Vibo Valencia, figura di primo piano del cartello scissionista antagonista al clan Mancuso di Limbadi, ha deciso di collaborare con la giustizia. Secondo diverse ricostruzioni giudiziarie sarebbe stato lo stesso Mantella l'autore di un brutale pestaggio ad un esponente del clan Mancuso, sancendo così la cacciata del potentissimo casato mafioso di Limbadi dalla città di Vibo. Plurimputato per mafia e distorsione è stato anche processato e assolto per vicende omicidiarie. Il suo pentimento segue di poco più di un anno quello di Raffaele Moscato, killer dei Piscopi Sani, che tra gli altri ha accusato lo stesso Mantella di gravissimi reati. Il boss, scarcerato il 14 giugno scorso per espiazione della pena combinatagli nell'ambito del procedimento Goodfellas fino ad un mese prima di ottenere la libertà, era ristretto nel carcere di massima sicurezza di Spoleto per poi essere trasferito nel penitenziario romano di Re Bibbia, dove esiste una sezione speciale riservata ai collaboratori di giustizia. Mantella è tra l'altro cognato di un altro boss che ha deciso di collaborare con la giustizia, Pasquale Giampà, detto mille lire, esponente di punta dell'omonima cosca di Lamezia Terme, nonché cognato di Francesco Scrugli, ucciso il 21 marzo del 2012 a Vibo Marina nell'ambito della sanguinosa faeda tra i Patania di Stefanaconi, legati a Emancuso, e il clan dei Piscopi Sani. Da Vibo Valencia per l'AC News 24.